Scontro tra due auto lungo strada battaglia ad Albignasego, due feriti. Una donna è rimasta incastrata all'interno dell'auto rovesciata su un fianco, tanto che è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarla dalle lamiere contorte. La ferita è stata portata in ospedale, ferito anche l'altro giovane autista dell'altra vettura. I carabinieri e la polizia locale hanno deviato il traffico ed effettuato i rilievi.